carissimo palo ti chiederai ma gli umani che razza di persone sono e lo so dice è impossibile che mi lasciano in questa situazione ebbe carissimo palo speriamo che presto qualcuno si accorga di te però ti prego non creare ancora altri disagi altri problemi magari se si avvicina a qualcuno fallo allontanare potrebbe morire toccando questi fili che sono proprio quasi per terra vedi carissimo palo da c'è ancora un po di tempo sono passati soltanto una quindicina di giorni da quando sei caduto non uccidere nessuno ti prego è non cadere certo se cade ammazzi qualcuno vedrai gli scaricabarile grazie a tutti grazie a tutti